Facciamo un'altra piccola parentesi e rimaniamo sulle serie, poi ritorneremo sui libri, non vi preoccupate, amanti dei libri, ma il post ci omaggia di un bell'articolo su quelle che saranno 30 nuove serie in uscita nel 2021. Sei pronti con la carta e la pella? Sì, non è che ve le sto lì a dire tutte e tutte quante, facciamo un rapido excursus, cominciamo con una serie che abbiamo visto e di cui poi forse faremo un piccolo accenno, che è WandaVision, cioè non è WandaVision, ma loro dicono Wanda, per cui io dico Wanda, WandaVision, ne parliamo dopo. E' uscita il 15 gennaio, quindi da pochissimo, su Disney+, serie dedicata all'universo Marvel, in particolare a due supereroi che sono appunto Visione e Wanda, che poi sarebbe Scarlet Witch. Sì. Non ho idea di cosa sto dicendo. Dopo ne parliamo bene perché sarà divertente. Andando avanti abbiamo The Snoopy Show, che sarà su Apple TV a febbraio, che è una serie tutta su Snoopy, penso sarà una serie comunque fumetto. Sarebbe stato divertente se fosse stata vera, però insomma vediamo. Credo sia una tecnica mista, perché l'ultimo cinecomics, possiamo definirlo così, il film sui Peanuts, l'ultimo mischiava 3D a 2D. Era molto figo, anche prima di Spider-Man Nuovo Universo, che è un capolavoro di quel tipo. Rimaniamo su Disney+, con Loki, la serie dedicata appunto al fratello di Thor, lo so pure io che è il fratello, no, Loki, Loki, neanche all'antidolorifico. Esatto. Fratello di Thor, interpretato da Tom Middleston, l'unico motivo per cui lo vedrai è appunto questo. Continuiamo con la nuova versione di Gossip Girl, se eravate affezionati a quella serie del 2007, pensavo anche prima, francamente. Ce n'è stata una nuova versione, sempre ambientata a New York, sarà disponibile su HBO Max, che se ho capito bene arriverà, giusto? Anche in Italia? In Italia lo stiamo aspettando, anche perché HBO parla spesso dalle parti di Sky, o perlomeno tutti i vari Game of Thrones sono spesso visibili su Sky. Ci sono i Gremlins, Secrets of Moguay, serie di animazione che fa da prequel al film del 1984, uno dei capisaldi della cinematografia di intrattenimento degli anni Ottanta. Anche questa, secondo me, è carina e interessante. Star Wars The Bad Batch, sempre Disney Plus, una serie d'animazione incentrata su un gruppo di cloni che disertano l'esercito di Palpatine. Palpatine? No, non fare gesti. Faccio gesti. Cowboy Bebop, te lo ricordi Cowboy Bebop? Andava su MTV la sera, ma non potevo vederlo perché andava su MTV la sera. Adattamento di questo anime giapponese degli anni 90, Netflix sarà quella che se ne occuperà. Ci sono grandissimi fan di Cowboy Bebop, anche un po' fissati, però un po' morbosi, se non ricordo male. Ricordo che è una colonna sonora veramente molto bella, potrei inserirla perché ne vale sempre la pena. Per quanto riguarda invece la parte... Scusa, c'è una cosa incredibile, fammela dire, perché se ne parla da anni e forse questo potrebbe essere l'anno buono di Underground Railroad, l'adattamento serie di La Ferrovia Sotterranea, romanzo di Colson Whitehead, vincitore del Pulitzer nel 2017, che Amazon Prime dovrebbe rasmettere. Eppure loro... E che stanno a far forse un blackwashing, o mai che si dice? Vabbè, io lo dico. Invece dalle parti della N rossa, nel 2021, dovrebbe arrivare finalmente la trasposizione di Gielmo del Toro di Pinocchio. Oh! Esattamente, è un film liberamente ispirato al classico di Collodi. Quando dico liberamente ispirato non c'entra una mano. Perché la storia è del bambino di legno, in chiave particolarmente cupa, ambientata nell'Italia fascista degli anni 30. Ah, del santo. Esatto. Poi arriverà, chissà quando, perché appunto sulle tempistiche c'è grossa crisi, come diceva il saggio, su HBO Max, dicono il 16 di luglio, ma chissà, arriverà Space Jam A New Legacy. Il seguito di Space... Sì, sì, potete ridere tranquillamente, perché effettivamente le idee sono molto rare. Sempre dalle parti della Pixar e della Disney c'è il nuovo lungometraggio animato, Luca, che è ambientato in Italia. Sì. O meglio, è diretto anche da... Liguria. Dovrebbe, sì. Enrico Casarosa è l'autore del corto La Luna, che tra l'altro vinse il premio Oscar. E forse l'avete visto prima di qualche altro film. Uscirà, chissà, appunto, nell'anno, dicono a giugno, ma chissà, appunto, tutto è da rivedere. E sempre dalle parti della Disney, come aveva detto Riccardo Corbò in una precedente chiacchierata, no, non sono arrivati per me, stanno passando, arriveranno anche il film della Disney che inseriscono delle tematiche dall'etania varia, diversa dalla... E cambiano i protagonisti? No, cambiano. No, no, non è che modifiano, ma raccontano delle storie di diverse... Ah, sì, 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 quello che abbiamo detto con... Con Riccardo Corbò parlavamo di Cugali, ma si è parlato anche di Encanto, che è un classico riportato, una sorta di musical, dalle parti che raccontano, appunto, una storia classica messicana. Raya, l'ultimo drago, questo è quasi sicuro, che arriverà sicuramente su Disney+, ed è un'altra storia annunciata con la diffusione, tra l'altro contemporanea, se saranno aperti i cinema, Disney+, e Sala. Aspettiamo su Netflix anche la nuova serie di Zero Calcare, Strappare lungo i bordi, di cui è stato diffuso un trailer, ma non sappiamo quando. Non si sa nulla, c'è un riservo. Però pare che quest'anno, sarà quest'anno. Così come aspettiamo invece su Sky la serie di Niccolò, Manniti, Anna, che parlerà di una ragazza che è Anna, che deve attraversare un territorio desolato e post-apocalittico per cercare il fratello. È basato ovviamente sul romanzo del 2015, sempre di Niccolò, Manniti. Su altri cinecomic, ce n'è tanta letteratura, tutti hanno una data sbagliata, perché per esempio questo articolo che sto leggendo è datato 29 dicembre, fonte fumettologica, quindi una fonte piuttosto autorevole, e dava come in arrivo il 28 di gennaio Wonder Woman 1984. È uscito negli Stati Uniti, l'hanno visto in molti da quella parte dell'emisfero. Però non è più arrivato. Sono chiusi i cinema. Ah certo, non ce lo danno in altra versione. Probabilmente arriverà on demand, forse direttamente in un video, forse con HBO Max quando arriverà, perché lì l'hanno distribuito con quel supporto. Arriverà, perché è pronto ovviamente questo film, la storia della genesi di Kingsman. La storia di Mark, il fumetto di Mark Miller e Dave Gibbons, che racconta questa sorta di armata di gentiluomini dalle manierie forti, un film che, anzi due film che hanno fatto molto divertire in precedenza, sarà raccontata la genesi di questa organizzazione. Di, appunto, i supereroi ne arriveranno talmente tanti che inizieranno a raccontare anche la storia dei cattivi. E arriverà anche Morbius con Jared Leto. Tu hai vagamente idea di... Esatto, sono contento di aver anche filmato questa reazione, perché di Morbius tu cosa... Io non so assolutamente niente. Niente di Jared Leto qualcosa. Sì, non è che proprio mi faccia impazzire Jared Leto. Tra l'altro Jared Leto è divertente, perché si è accorto della pandemia con dei mesi di ritardo, perché era nel deserto a fare della meditazione. Ed è tornato... Giuro, non è una cosa. È tornato e ha scoperto... Gli ha preso un colpo, poveraccia. Magari aveva trovato una dimensione, un equilibrio. Morbius, invece, è la storia del vampiro nemico di Spider-Man. Esatto. Che dovrebbe affiancare tutta la storia degli spin-off. Ma non è quello che lo fa diventare nero? No, quello arriva con un secondo film. Quello si chiama Venom ed è interpretato da Tom Hardy. Tra l'altro ci sarà anche un... Sì. È male, Tom Hardy. Lui è bravissimo, ma nel primo film sembrava che stesse guardando dei pascoli di pecore. Si aspetta anche Black Widow, pure questo con Scarlett Johansson. Scusa, ma in tutto ciò, Loki non è un cattivo? Loki è un cattivo, ma è una serie. Ah, no, vabbè, però dico... Cioè, i cattivi si utilizzano già da un po'. Tra l'altro, però, se ne cattivi dovrebbe arrivare quest'estate, chissà. Suicide Squad, la seconda, il secondo film della squadra dei super cattivi del mondo DC, ma che ha come supereroe il regista. Perché James Gunn, in un momento della sua vita, è stato cacciato dalla Disney per dei tweet, se non sbaglio, di... Era un tweet sessista. Sì, sessista. Di qualche anno prima, però. Tipo dieci anni prima, sì. E l'hanno cacciato, ma poi l'hanno ripreso, perché i suoi guardiani della galassia sono talmente belli, sono talmente andati bene al botteghino, che l'hanno ripresi. Come torneranno Spider-Man con il terzo film, il tuo bene amato, non faccio altre pause, The Rock, arriverà con un film dove interpreta un cattivo, o perlomeno è uno spoiler dire che è un cattivo, perché Black Adam racconta la storia di un nemico di Shazam, se non sbaglio. Ma uno dei film più interessanti, che è qui, chiudo perché stiamo sforando, tutte le tempistiche diabolic. Ok. Film con la regia, i Manetti Bros, noi in Mainetti, perché Gabriele Mainetti è uno, ed è un altro, molto bravo, ma non ha fratelli registi. E Diabolic sarà al cinema, chissà, con Luca Marinelli, con Luca Marinelli. Addirittura Eva Kant. Lo so, aspetta, aspetta. Non è bionda naturale, ma... No, sì, non mi ricordo. L'ossa, lei è rossa, no, Miriam. Miriam Leone. Miriam Leone. Mi veniva Miriam Catania, che è un'altra, anche l'altro non mi piace, però... Va bene, la salutiamo da Radio Elettrica. Valerio Mastrandrea, amatissima da queste parti, sarà l'ispettore Ginko. Che bello. Tutto questo arriverà al cinema, chissà quando ed è inserito nell'argomento cinecomics, perché, sì, abbiamo una produzione di fumetti anche italiane, e tra l'altro dovrebbe arrivare il primo film Bonelli, ovvero il primo film di Dampier. Sono piuttosto impreparato sull'universo Bonelli in generale, molto più preparato su Diabolic, ma è una buona notizia che la Bonelli, come avevamo detto forse un anno e mezzo fa con il suo direttore editoriale, sta producendo, stava già lavorando e lo datiamo a un paio di saloni del libro fa, ma arriverà, arriverà il film, dovrebbe essere pronto, l'avevano anche vagamente presentato all'ultimo Lucca, e quindi ci siamo. Vado veloce su Asterix e Obelix, che torna con l'ennesimo, anzi il quinto film, chiudo con una notizia veramente molto bella, perché La Terra di Figli di GP sarà un film diretto da Claudio Cuppellini di cui non si sa nulla, ma chi ha letto il libro può soltanto immaginare quanto può essere un racconto bellissimo, che tra l'altro è sempre più attuale per una serie di motivi, insomma, io intanto che lo aspetto vi invito a rileggerlo, a rileggere La Terra dei Figli, a ripercorrere, perlomeno arrivare preparati davanti allo schermo, perché ci sono tantissime pagine da leggere, se volete arrivare preparati con l'originario letterario, se volete, questi sono i titoli che dovrebbero arrivare nel prossimo futuro, non nel 2021, per forza tutti, perché ci sarà un traffico tale che sarà veramente complicato, complicatissimo, fare ordine. Grazie.